Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, è ufficiale, Pulisic è un nuovo giocatore del Milan avevo già fatto la reaction alle sue giocate, alla faccia di chi dice Dani quando fai la reaction i giocatori non vengono, invece Pulisic è venuto, chiedete scusa a Brogna e lasciate un like se volete chiedete scusa a Brogna Love2Cheek, anche lui, ho fatto la reaction ed è venuto, quindi sono contento ok, poi ho fatto altre reaction di gente che non è venuta, ma questo è un altro discorso prima di iniziare ragazzi, oltre a chiedervi like, vi chiedo anche di iscrivervi perché tra 1388 iscritti raggiungeremo quota 300.000 quindi abbiamo abbattuto anche il muro dei 1400 e voglio abbattere adesso il muro dei 1300, nel vlog di domani ci deve essere scritto 1299 almeno detto questo ragazzi, Pulisic arriva al Milan ed è stato pagato 20 milioni più bonus e qui vorrei fare un piccolo discorso molti dicono, eh però sono troppi perché il prossimo anno cioè lui vale sui 25 milioni ora come ora eh l'anno prossimo il contratto gli sarebbe scaduto e quindi sono tanti 20 e 20 milioni più bonus per un giocatore che tra sei mesi potevi ingaggiarlo a zero eh ci sta come discorso in linea di massima però innanzitutto stiamo parlando ragazzi di un giocatore 24enne e secondo me l'età in questo caso fa la differenza e soprattutto ragazzi ci siamo sempre lamentati che il Milan soprattutto negli ultimi anni si riduceva all'ultimo giorno di mercato per prendere i giocatori e sappiamo questo quanto poi influisca soprattutto sulla prima parte della stagione perché magari il giocatore inizia a giocare in un altro campionato poi viene preso salta tutta la preparazione atletica con la squadra in questo caso il Milan quindi secondo me il Milan la società in questo caso si è ha fatto la scelta giusta vale a dire ha alzato un po' le pretese cioè ha contentato le pretese del Chelsea però il giocatore arriva subito ragazzi il giocatore arriva subito può iniziare a fare la preparazione visto che arriva solo due giorni dopo che la squadra si è riunita il 10 luglio per iniziare questa nuova avventura ci sarà poi ovviamente prenderà parte della della tournée estiva e quindi secondo me è il giusto compromesso spendere quei milioncini in più per averlo subito e integrarlo nella squadra detto questo piccola chicca a parte che adesso sto facendo le visite mediche a Milano e poi dovrebbe andare a casa a Milano se tutto è ok se tutto è ok visto il suo escursus medico io mi metterrei sul se sarà tutto ok per mettere sta cavolo di firma scherzi a parte dovrebbe arrivare la firma oggi stesso e lui praticamente sarà il terzo statunitense a vestire la maglia del Milan dopo ogni ev e dopo sergino d'est diciamo che i suoi chi lo ha preceduto non ha lasciato grandi ricordi nei cuori nei cuori rossoneri speriamo che lui riesca a invertire questa tendenza grande ogni evo cazzo il quarto acquisto del Milan dopo Luca Romero dopo Ruben Loftucic che nella conferenza di ieri aveva praticamente spoilerato l'arrivo di Pulisic dopo Marco Sportiello quindi Pulisic il quarto acquisto del Milan e adesso ovviamente si aspettano anche evoluzioni per quanto riguarda l'altro mediano che sta cercando il Milan vale a dire Reinders che ho imparato a pronunciarlo dicevo Reinders qualcuno mi aveva scritto Dani semplicemente Reinders e quindi ora lo so pronunciare e cosa dire altro dove giocherà ne abbiamo parlato anche ragazzi nel video della reaction delle sue giocate che ve lo lascio nelle schede se volete dare dare un'occhiata è quel grande dilemma ragazzi il solito grande dilemma in teoria lui può giocare a sinistra al centro e a destra io dico se effettivamente il Milan vuole virare sul 4-3-3 iniziano ad essere tanti quelli e quelli sulla destra innanzitutto hai lui Pulisic al momento è ancora Messias che sicuramente è un'uscita hai comunque Salemakers che in teoria dovrebbe rimanere e hai anche De Chetelare mentre già se giochi col 4-2-3-1 diciamo che come centrale Pulisic potrebbe rendere di più alternato con De Chetelare e poi sulla destra effettivamente dai via Messias ti tieni in Salemakers e poi cerchi un esterno destro che potrebbe essere o Isaacsen nome accostato al Milan nelle ultime ore oppure Chukwese che ovviamente stuzzica un po' di più i palati rossoneri però lato mio vi ho anche detto che immaginarmi un attacco con Giroud o chi per lui Taremi di turno o chi per loro Leao, Pulisic e Chukwese si rischia secondo me di essere troppo troppo sbilanciati quindi secondo me l'ideale come vi ho già detto sarebbe virare sul 4-3-3 anche per cambiare un po' le carte in regola e vedere se si può fare qualcosa di diverso ultimo discorso è legato al numero di maglia perché quale potrebbe prendere? di solito se non sbaglio lui al Chelsea va alla 10 correggetemi i sbagli nazionali sicuramente la 10 al Chelsea mi sembra anche la 10 e al Milan potrebbe prendere o la 10 occupata dalla Faleau che se ne è presa quest'anno potrebbe prendere o la 11 di Ibra lasciata libera da Ibra oppure la 22 che rievoco ovviamente il grande Ricky Kakà quindi queste sono le due alternative più accreditate in questo momento detto questo ragazzi c'è da dire che Pulisic è quel nome che comunque da spessore scalda un po' i cuori della tifoseria perché stiamo parlando comunque di un giocatore affermato, giovanissimo con la sua esperienza, col suo escursus storico di tutto rispetto e quindi è un po' il colpo che mancava al Milan da tempo perché ok prendi l'off su Cic, buon giocatore per carità però Pulisic secondo me scalda di più detto questo è ovvio come vi ho detto anche nel video della reaction alle sue giocate che il Milan deve andare a prendere questi giocatori che stanno magari un po' faticando con la squadra di riferimento ad esempio Pulisic nel Chelsea non è un caso che la scorsa stagione sia stata la sua peggiore in assoluto negli ultimi almeno 4-5 anni e il Milan li deve attingere ma in generale penso che la Serie A possono attingere solo da lì se Pulisic lo scorso anno avesse fatto 20 gol, 15 gol A non sarebbe mai venuto al Milan B non sarebbe mai venuto eventualmente a 20 milioni di euro detto questo ditemi cosa ne pensate vi ringrazio, lasciate un like iscrivetevi se ancora non l'avete fatto se volete recuperarvi la reaction alle giocate di Pulisic la trovate nelle schede per adesso è tutto e alla prossima ciao